Ok, anche il mo, anche il mo, tutti giù. Allora, Muriel, gli ombreloni, cosa facciamo? Li chiudiamo, li lasciamo aperti, dà un fastidio. Tu ripensi, ma le pietre camere dall'alto. Per quelle che pigliano dall'alto. Qui ha una testata, adesso gli ficco una testata. Aspetta, perché lui non c'è qua oggi, eh? Lui non c'è. Allora, allora, mi dai la tre e la quattro dopo. Allora, stanno guardando tutti da questa parte, dunque. In tonia siete dei turisti, dunque dovete guardare da tutte le parti, non guardate solo noi, dunque guardate, giratevi anche verso il mare, cioè dovete fare finta di essere in spiaggia, non vedete, semplicemente è una spiaggia un po' affollata rispetto al solito. Dunque, quei buchi là giù in fondo, vedo dei buchi enormi là in fondo. laggiù, ci sono dei buchi, qua siete molto ammassati laggiù in fondo, dove ci sono, quelle due ci dovete, ecco l'esatto, col cappello bianco e col costume verde, esatto. Esatto, loro due. Qualcuno vada là, ragazzi. Chiudiamo gli ombrelloni, ragazzi, chiudiamo gli ombrelloni. Ok, chiudiamo gli ombrelloni un secondo, grazie, qua sulla spiaggia. Molto bene. Ok, ok, ok. Allora, la nostra ballerina, sì, eccola qua. Allora, vatti a mettere, devi andare in mezzo proprio a loro. Vai, ti dico dove andare, vai dritto. Vai dritto. Come dici? Ok. Vai pure, ma fatelo passare, ragazzi, fatelo passare. È contagioso, fatelo passare. Fatelo passare, fatelo passare, molto bene. Molto bene. Sì, allora, ragazzi, quelli che sono in piedi, sul lato a destra, dovete venire anche voi, perché è tutto ripreso anche dall'alto. Dunque tutti giù, abbiamo bisogno anche di voi, ragazzi. Sì, voi che siete in piedi, esatto, esatto. Venite qua davanti in spiaggia. Sedetevi giù, saltate in aria e spalleggiate anche voi. Allora, facciamo ancora una prova adesso. Dopodiché facciamo quella ufficiale. Però nel frattempo già noi facciamo le riprese, che quello che va bene lo teniamo, ragazzi. Ok? Ok. Allora, Aspie. Aspie è la ballerina, quella gnocca incredibile ed immenso. Sei vicino all'ombrellone, lei mi ha tenuto lì, perché rimani coperto. Vieni più verso di me. Vieni più verso di me. Un genio. Ok, fermati lì. Ok? Ok, ragazzi. Sparatevi bene, il più possibile, ragazzi. Ok. Facciamo la prova anche una volta. Ecco, Aspie. Aspie, devi ballare in modo molto evidente. Devi proprio ballare e guardare tutte le parti, ruotare su te stesso. Ok? C'è pieno di gnocchi intorno a te. E stacchino da tutti. Vai. Prova, ragazzi. Ma io voglio lei, ma... Aspettatevi. Buona scatenata. Inizia pure a muoverti. Inizia pure a muoverti. Vai, muoviti. Vai, vai. Ma guardi, signor Vazio, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori lei è salito non andare a comandare. Mi spiace. Ho un problema nella testa, qui sono la metà. Mi sento parti, sono la metà. Ogni volta che mi parte, si è imbrazzante. Come quella volta che stava l'essante. Metti da bene, lei diceva. Allora, non so, 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 non so. Non so, 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 non so. Andiamo con noi 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 E qua che siete attori Capito? Ok Ragazzi ci siamo Tutto è pronto E qua che siete attori Attenzione mi raccomando Andiamo con noi Andiamo con noi Mi raccomando Rimani dietro l'ombrellone Imbalato dalla telecamera Pronti ragazzi Silenzio totale Via Andiamo con noi Mi spiace Mi spiace Ho problema nella testa Qui sono la metà Ogni tanto parte il suono che fa E ogni volta che mi parte Sì imbarazzante Come quella volta che stava distante Non so spiace E lei dice Da bene Solo che quando Mi passi E' una malattia E' pericolosa Soltemi lontano E' un'altra cosa Non so se sono pazzo O sono un genio Ma ci sono i sentimosi Andiamo con noi Perché non mi fumo Andiamo con noi Ehi Massimo, ma che piazza fai? Ehi Massimo, ma che piazza fai?